Una partita difficile, una partita complicata come lo so lo so ha delle altre che abbiamo appena disputato. Quindi è un giorno difficile, ne sapevamo, e domenica affrontiamo un'altra grossa squadra. Una squadra composta da giocatori importanti, una grossa società che quest'anno ha fatto rinascere con il calcio d'Aversa dopo le decisioni dell'anno scorso a un allenatore il più difficile da affrontare, non perché è mio fratello ma perché è il più bravo.